Ciao a tutti, oggi vogliamo presentarvi alcune delle nostre miscele di erbe di resine, quindi alcuni dei nostri incensi, e andremo a spiegarvi come sono composti e perché abbiamo scelto questa composizione. Il primo che andiamo a presentarvi è Good Vibes, che è un incenso pensato per portare positività e allegria. È un incenso composto con una parte di resina di olibano aromatizzata alla rosa, una parte di resina d'incenso e una parte di un incenso greco aromatizzato al gilsomino, quindi ha delle note molto floreali e dolci. Come erbe all'interno abbiamo scelto di metterci dei petali di rosa, che è un fiore legato ai sentimenti ma che non solo attira l'amore ma va proprio a creare armonia negli spazi abitati da più persone. Abbiamo della camomilla che aiuta a ritrovare la giusta calma. La camomilla è un fiore che va ad allontanare i problemi, i cattivi pensieri e quindi ci alleggerisce dello stress, va proprio a diminuirlo. Abbiamo poi due erbe che sono il sambuco e l'ortica che vanno a creare una sorta di scudo di protezione. Il sambuco in particolare protegge e crea uno scudo contro le negatività ma allo stesso tempo va a donare ispirazione e a smuovere energie positive. Quindi per questo l'abbiamo scelto per una miscela punta volta al portare positività ed allegria. La seconda miscela invece si chiama Feeling Good ed è pensata più che altro per le persone che magari tendono a soffrire di una leggera ansia, tendono sempre a sentirsi un po' in apprensione, tendono ad avere pensieri leggermente paranoici ed è una miscela creata con una base di mirra che è una resina che dona forza, che ci rinvigorisce, che va a distendere i nervi. All'interno poi abbiamo messo della cannella che va a purificare il luogo in cui lo bruciamo chiaramente ed elimina proprio le paure. Abbiamo la calendula che va a ridurre, a ridimensionare gli stati ansiogeni, quindi ci aiuta a riequilibrare le nostre energie e eliminare appunto la parte delle energie negative. Abbiamo una parte poi di Bacche di Ginepro che ci riporta ad essere lucidi mentalmente, nel caso appunto di ansie, di pensieri paranoidi, va a distendere i nervi e a renderci un po' più, va a riportarci più sul piano reale diciamo. L'ultima miscela che vogliamo presentarvi si chiama Dreaming ed è una miscela pensata per essere bruciata prima di andare a dormire perché appunto va ad agire sul sonno e sui sogni, va a migliorare la qualità del sonno e fa in modo che sia più facile per noi ricordarci i sogni. All'interno abbiamo come resina, lo si può vedere probabilmente anche dal colore, c'è dello storace che è una resina calmante e rilassante ma che allo stesso tempo va a smuovere energie positive e dona entusiasmo. Quindi è collegato anche al tenere lontano gli incubi ma cercare di rendere i sogni migliori e allo stesso tempo quindi più riposanti. Abbiamo poi della lavanda che va ad allontanare l'agitazione e favorisce il rilassamento. Abbiamo un mix di menta, di artemisia e di rosmarino che sono appunto le erbe che fanno in modo che sia più facile per noi ricordare i sogni e una parte di camomilla che va a donare calma e rilassatezza. Grazie a tutti!